Ancora una volta, per l'ennesima volta, con piacere, stiamo anche registrando perché comunque è una prova abbastanza interessante, la musica sotto purtroppo me la beccherebbero come copyright, comunque la radio è un TX-9005 della Pioneer, che vi faccio vedere così, TX-9005-2, grande apparecchio degli anni 80, siamo a Marina Romeo con l'antenna esterna che è sempre questa qua e stiamo sentendo in stereo, senza neanche il noise reduction, Stella FM, da Vicenza, il 97 e 2, segnalone perfetto, sentite qua, Abbiamo il filtro in aro, la radio è ancora originale, non c'è nessun trucco, nessun inganno, super propagazione, gran stazione, gran radio e gran musica, detto questo terminiamo il video.